Ciao ragazzi bentornati o benvenuti in questo nuovo video L'inquadratura un po' più lontana significa soltanto una cosa Oggi unboxing e beh qua dentro c'è veramente un botto di roba interessante Abbiamo la seconda inquadratura lì per farvi vedere tutto il contenuto di questa scatola Che come detto è veramente super super top Arriva da Small Rig Non me l'hanno mandato, l'ho comprato, ho pagato 33 euro di togana, porca miseria Per questo vi dico sempre di acquistare su Amazon Perché con Amazon queste cose non succedono Infatti Small Rig vende anche su Amazon Se non sapete di chi sto parlando è un'azienda che produce accessori per la mia Sony E mi serviva qualcosina per fare un po' un upgrade della mia attrezzatura Se volete un video completo dedicato all'attrezzatura Luci, macchina, accessori e tutto il resto, microfoni Mi raccomando lasciate un commento qua sotto Direi di non perdere troppo tempo e di andare avanti Per quale motivo non ho comprato io questa roba su Amazon? Se vi ho detto che conviene comprare su Amazon così non avete la togana da pagare Beh perché mi serviva della roba che su Amazon non c'è Quindi ho dovuto per forza acquistare dal negozio ufficiale E mi son beccato la togana Purtroppo c'è poco da fa' quando è così Quando una roba ti serve va presa e basta ragazzi Questo è Nel frattempo andiamo ad unboxare il tutto Vediamo se riesco senza sfasciare tutto come ogni volta Questi unboxing mi distruggono Mamma mia è durissimo questo pacco O forse è il taglierino che smette di tagliare Niente Vabbè spaccheremo tutto Ecco qua, perfetto Allora c'è veramente un bel po' di roba Perché mi servivano, mi servivano diverse cose E ho detto vabbè sai che c'è faccio un ordine unico Tutto sul sito di SmallRig Partiamo con il mini follow focus Questo è veramente super utile Mi servirà insomma per mettere a fuoco le clip Mentre utilizzo il mio gimbal Mettiamo qui da una parte Questo che è veramente la svolta Il nuovo grip Lo shooting grip di SmallRig Volevo comprare il classico manfrottino su Amazon Ma poi ho visto questo Guardando i video di Ephraim Lamesta Mi sono innamorato del suo supporto della Sony Ma costa un botto Questo costa un pochettino meno E ho preso questo Poi Andiamo avanti Qui c'è Vediamo Questi dovrebbero essere poi Tutti altri rig vari Sempre per la Sony Vediamo eh Allora questo lo apriamo qua Perfetto Questo è fighissimo Praticamente permette di Avere altri due attacchi Per la Sony Per i microfoni Uno sopra E uno laterale Sarà super super utile Perché io ho due microfoni wireless Così mi ritengo sempre montati Ed è veramente il top Alla grande Possiamo toglierlo Ok Poi magari nel frattempo Mentre parlo Vi faccio scorrere anche Sul video Delle immagini Appunto Inerenti A tutti i prodotti Questi sono Questi sono i tubi Credo Per montare Il follow focus Sì ovviamente È di questa forma Solo i tubi Potevano essere Ok Allora Primo problema Io credevo che la piastra Fosse compresa E invece Sembra Che non sia compresa Questo può essere Un problema Vabbè ma comunque Poi me la vedrò Io off camera Poi qua Invece Dovrebbe esserci Ah c'è un altro pacchetto Sì Preso talmente tanta roba Che mi sono dimenticato Quello che ho preso Vabbè Comunque Qua dovrebbe esserci Il nuovo rig Vediamo un po' Allora Vedo una brugoletta Sì esatto Questo è il nuovo rig Invece Vediamo un po' Ok Ah no è la maniglia Perfetto Questa raga è La svolta Wow È fatta benissimo Che spettacolo Due belle vitone Qua sopra Perfetto E questa è la maniglia Poi per portare In giro La mia bella Sony Così super comodo Ci sta alla grande Allora Vediamo un attimino Perché sono mesi Che giro sul sito E alla fine Io in realtà Un altro rig Ce l'ho Era un attimino Indeciso Se prenderlo Non prenderlo Poi non ricordo più Quello che ho fatto Sinceramente Questa è la maniglia laterale Quindi utilizzerò il rig Che ho già Senza alcun tipo Di problema Tanto va alla grande Questo pacco Ragazzi Ha messo veramente Una vita Ad arrivare Quasi un mese Però ve l'ho detto Per questo anche Comprate su Amazon Così non fate La mia stessa fine Non vi dimenticate Quello che avete preso Perché almeno State sicuri Questa invece È la maniglia Che si aggancia lateralmente Alla fotocamera E vi permette Di avere anche Un'altra bella Presa solida Laterale Sulla fotocamera Che mai male Non fa Ora però Voglio andare Ad aprire questo Perché questo Mi interessa Incredibilmente Questo è veramente Una figata È lo shooting grip Come detto prima E non vedo Davvero L'ora di provarlo Perché il classico Manfrottino Sì ok È carino È comodo Ma questo dovrebbe essere Tutta un'altra storia Packaging Assolutamente Pazzesco Super curato Eccolo qua Mamma mia Sì quanto è bello Ragazzi Qua si preme questo E sale Wow Che spettacolo Non avete idea Cioè assurdo È anche Un mini treppiede Si mette così Volendo Non so cosa starete vedendo Si mette Mamma mia Che spettacolo Plastiche Veramente Al top Bellissimo Fatto Bene 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 Ovviamente questa parte Può essere staccata E può controllare Il telefono la fotocamera in wireless, comodissimo, davvero davvero bello, non è molto saldo in realtà, sicuramente lo perderò, speriamo di no, anche perché è costicchia sta a fare, quindi insomma non è male, ovviamente qua si può anche andare a girare la testa, qui ottimo, qui si può fare lo zoom, premere per le foto, i video, cambiare un programma predefinito, bello, bello, mi piace veramente un botto, sembra veramente super super comodo alla grande, e adesso ci apriamo anche, eccolo qua, il nostro piccolo follow focus, speriamo che la piastrina per montarlo sia già dentro, perché altrimenti può essere un problem, speriamo, speriamo bene, packaging anche qua, mamma mia, che spettacolo, bellissimo, packaging super curato, raga la roba di small rig costa ma veramente tanta tanta roba, un bel follow focus, qua ci sono i tubi più corti, il tubo più corto, rispetto a quelli che ho preso io, e poi si dai c'è, c'è la piastra per il tubo, per montarlo poi direttamente sulla, sulla macchina, quindi stiamo super tranquilli, questa è la cinghia, insomma vabbè se non sapete di cosa sto parlando è perché forse non fate video di, di mestiere, ma oh, questo è il mio canale e come anticipato più e più volte sicuramente arriveranno sempre più video a tema videomaking, quindi se siete interessati, se siete nuovi lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale perché è importante e a brevissimo, se vi va, faremo un video in cui mostrerò tutta la mia attestatura che uso appunto tutti i giorni per andare a realizzare i miei video, detto ciò iscrivetevi per rimanere aggiornati, io sono Luca Crocco, grazie per essere arrivati fin qui, ve lo ricordo, acquistate su Amazon, non fate le cavolate che faccio io che compro dei siti ufficiali, la roba ci mette un mese ad arrivare, mi scordo quello che ho ordinato Amazon è la svolta, ricordate però, ciao ragazzi